E riaccomoci qui con un nuovo video ragazzi, io sono Cri e oggi siamo tornati su iFootball2024 per andare, dipende da chi incontriamo, dipende da quanti punti facciamo, se le vinciamo tutte non si sa, lo scopriremo, a scalare alla divisione 2 fino alla divisione 1. Oggi non ci sono giocatori nuovi da provare e il talismano, l'unica, non è vero, non è l'unico perché c'è sempre stato anche Snyder e Snyder ce l'ho ancora da prima di lui, Ho rimesso in panchina il vecchio Maradona, il vecchio Maradona big time che comunque è un'altra cosa, lo sappiamo, tanto che gli era scaduto il contratto, non volevo buttare contratti quando comunque Maradona ce l'avevo, ma serve lui per arrivare in divisione 1 secondo me, cioè lui è proprio quello che mi ci porta, mi ci ha portato le prime volte e poi è sempre stato lì, attaccante di rientro, ragazzi, c'ha riserva di lusso quindi è per questo che parte dalla panchina, altrimenti lo giocherei anche titolare, Andiamo, andiamo senza perderci in chiacchiere. Primo avversario di quest'oggi, allora Frecci siamo messi quasi in amichevole, nessuno completamente su, nessuno, in questi casi io andrei sempre con i titolari, quindi andiamo così senza toccare nulla, Questa è la squadra del nostro avversario, affrontiamo con un 4-2-4, poi più si è sbilanciato, moduli fatti alla cazzo e più rendono, quindi possesso palla con due centrocampisti, poi voglio vederlo nella realtà come gira, guardiola con due centrocampisti, quattro attaccanti, quattro difensori, voglio proprio vedere. Inizia così la prima partita di quest'oggi, manteniamo la concentrazione, se parlo poco sapete come mai. Lancialo, bravo, vai Baggio, vai Baggio, schiaffala! Minchia è entrata lo stesso, ha tirato una cannonata che non è riuscita a tenerla, non mi ricordo chi abbia in porta, 1-0, noi continuiamo a giocare come se fossimo ancora sullo 0-0. Vai Messi? Non c'è nessuno in mezzo, lo so Messi, però tu puoi. Bello, ha aspettato il momento giusto, 2-0, settimo minuto. Stiamo, stiamo tranquilli, stiamo, non tranquilli, di più. Minchia, non era facile, non era facile, volevo fare un bel gol sul 2-0. Vai Ciala, vai Ciala, un po' di spazio. Minchia, che passaggio gli ha messo? Ci posso, non ci posso credere. Cioè qui l'ha preso in mano lui il portiere, quindi vabbè, complimenti a lui, eh, complimenti a lui. Però è una cosa scandalosa, sbagliare un gol del genere, anzi, parare un gol del genere. Complimenti a lui per lo schema, arriva il primo tiro in porta, a porta libera ovviamente, perché sennò non aveva senso. Primo tiro in porta al 61esimo, su schema di gioco. Complimenti per lo schema, eh, ovviamente. Però non ha fatto veramente un emerito cazzo di niente fino ad adesso. Qua Messi non si sa, non sappiamo effettivamente cosa abbia fatto. Non si sa perché Ronaldo si sia fermato. Come è iniziato il secondo tempo, si è ribaltata la situazione, eh. Questo pipponazzo clamoroso ha subito tutta la partita. E magari adesso prendiamo anche il 2-2, eh. Veramente, andiamo a fare i cambi. Un tiro in porta del nostro avversario, sei nostri. Rischiamo anche di pareggiarla, rischiamo anche di pareggiarla. No, ci posso credere io. Cosa cazzo sta succedendo? Cambi fatti, ragazzi, eh. Quimbape sulla fascia. Basta che la metti marbida in mezzo, guarda che bel cross. Cruif in mezzo. Giroud ha girato! Minchia, minchia, come l'ha messa dentro. Come l'ha messa dentro. Si è girato, si è girato Giroud. 3-1 forse chiusa, non lo so, perché è l'ottantunesimo. Però sicuramente mette un attimo in cassaforte il risultato. Bravo, bravo Giroud, bravo Liviero. Maradona, il nostro vecchio Maradona. Era la posizione difficilissima e non ha girato la palla. Vai, vai Kilian, vai Kilian. C'è tutto lo spazio, vai Kilian, vai Kilian. Morbida in mezzo, Giroud di testa. Forse poteva andare di piede, ma va bene, va bene. Ha fatto un paratone il portiere avversario, la palla è rimasta lì. Oh, cazzo, come entra Giroud ci mette sempre lo zampino. È una cosa assurda. E finisce così, ragazzi. 4-1 per noi. Alla fine siamo riusciti a chiuderla e veramente mandare al bar l'avversario che ha fatto un tiro totale durante tutta la partita. Vittoria meritata. Ovviamente non siamo ancora in divisione 1. Vediamo quanti punti ci dà. Uno totale alla fine ne fa. Cioè, uno in porta, vabbè, due totali. Sette parate del portiere. E poi prende 5 e mezzo, Alisson. Cioè, gli ha tenuto in piedi la partita. Ha fatto sette parate. 18 punti. Pochissimi. Però se vinciamo anche la prossima, dovremmo arrivarci. Secondo avversario di oggi. Ovviamente, eccolo qui. Eccolo qui. Il divisione 1 top 1.2. Che ci deve mettere i bastoni tra le ruote. Perché quando ti manca una partita sola, è così. Ieri abbiamo incontrato il 170esimo al mondo. ex 119esimo. E niente, anche meritando la partita, non potevamo vincerla in nessun modo. L'abbiamo persa. Vediamo come va questa. Andiamo con i titolari. Questa è la squadra del nostro avversario. Affrontiamolo. Inizia così la seconda. E la definitiva. Cioè, la prova finale. Poi dipende tutto sempre da Konami, alla fine. Partita di oggi. Eh, va bene. Va bene. Poi ci si mettono anche i miei stessi giocatori. Che gli dai pallone sui piedi, non la stoppano. La lasciano sfilare. Qui chi è che lo decide se la deve lasciare sfilare? Chi lo decide? Eh, Konami. Chi lo deve decidere? Eh, di testa da lì. Troppo lontano. Troppo lontano. Tagliela. Bravo. Che è successo? Perché l'ha lasciata sfilare? Perché i miei giocatori non possono stoppare un pallone? Hanno perso l'abilità dello stop? Cioè, un'abilità aggiuntiva che bisogna aggiungere e non lo so? No, perché? Perché l'ho angolata sul secondo palo? Perché? Perché? Non si può tirare dove cazzo vuoi tu. Perché? Per quale motivo? Per quale motivo l'angoli al secondo palo e gliela tira in bocca? Cioè, gli ha fatto un passaggio, Messi, eh? Gliela letteralmente passata al portiere avversario. Angolata sul secondo palo. Gli ho fatta anche a giro. Niente da fare. Fan quel cazzo che vogliono. Va bene. Mamma mia che c'ho feca. 1-0. 1-0. 1-0. Dono esulto perché non è chiusa. Niente, niente di, di, di scritto. 1-0. Giochiamocela. Bello. Bellissimo. Vai Baggio. Bello, bello, bello. Devo dire, devo dire. 61esimo. Ce la stiamo giocando. Ok, ragazzi. Cambi fatti. Vediamo se riusciamo anche a mantenere il risultato che va benissimo, eh. Ci mancherebbe. Sponda qui di Giroud. In mezzo. De Vrij. Che cazzo ha preso? Qui di chi è? Di chi è? Qui non si sa di chi cazzo sia perché ci sono stati sette rimpalli. La palla è rimasta lì. Cosa ha preso comunque? Cosa ha preso? È nostra. È nostra. Ci riproviamo. Però stavolta la sponda la facciamo con De Vrij. Perché se no mi ritrovo ancora davanti al portiere con De Vrij, appunto. Niente. Ci arriva Raikard? No. Giroud? Non ci posso credere. No. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Graziato. Graziato. Veramente. Vai Lauti. Eh Bergomi è veloce eh. Bergomi è veloce Lautaro. Tu puoi tenerla però. Puoi almeno tenerla. Va bene. Va bene. Nostra. Ah. Ah ok. Ok. Niente. Per forza sua. Evidentemente non poteva essere nostra. Oliviero ti prego eh. Oliviero ti prego. Provaci almeno. Provaci. Cazzo. Oh strattonato però eh. Questo era fallo. Questo era fallo. Qua non si sa cosa cazzo sia successo. E finisce così ragazzi. Finisce così. Mamma mia. Bella sudata alla fine. Bella sudata perché secondo tempo me lo son praticamente difeso. Mi son difeso per mantenere il risultato. Non aveva senso sbilanciarsi per andare a fare il 2 a 0 che poi rischiavi di non vincerla. Ce la portiamo a casa meritatamente. Migliore in campo anche alla fine nelle partite quelle importanti Cristiano Ronaldo ragazzi. CR7. 7 e mezzo ci mette sempre il suo zampino. Ogni partita lui qualcosa lo fa. È una cosa assurda. Poi 7 anche Dida comunque eh. Cioè 7 anche Dida nonostante nonostante abbiamo vinto noi vuol dire che ha fatto delle belle parate. Comunque ci portiamo a casa questi 19 punti. Ci siamo arrivati finalmente. Divisione 1. Promozione in divisione 1. Era anche ora eh. Adesso vabbè ovviamente ragazzi il video uscirà non so l'ultimo giorno di season. Il penultimo. Non so quando che giorno uscirà perché li sto pre-registrando uno dopo l'altro. Li sto registrando un po' di giorni prima. Non è che sono arrivato l'ultimo giorno di season in divisione 1. E bene o male bene o male sono veramente veramente soddisfatto per le statistiche ragazzi. 74% di vittorie. 26 vittorie. 4 pareggi. 5 sconfitte. Io non sono soddisfatto di più. Di più veramente. Piccola parentesi 151esimo eh. Era il 151esimo l'ultimo. Quindi le due partite che abbiamo fatto in cui dovevamo arrivare in divisione 1 abbiamo incontrato questo qui che era il 119esimo. Ok. E meritavamo anche di vincere. E l'ultimo che è l'ex 151esimo. Quindi nel senso hanno provato a metterci i passoni tra le ruote. La prima volta ci sono riusciti nonostante avessimo meritato. La seconda no. E va bene così. Poi vedo anche gente ragazzi che ha 160 partite. 200 partite. E non riesce ad arrivare in divisione 1 con 200 partite. Io con 30 ci arrivo sempre. Con una trentina di partite ci arrivo sempre in divisione 1. Veramente una cosa assurda. Poi ragazzi adesso il video finisce qui. Sono veramente contento. E alla fine il talismano, il talismano, anche se non ha fatto gol, talismano Diego Armando Maradona. Quello big time ovviamente. Che c'è sempre stato quando sono arrivato in divisione 1. Mi ci ha portato ancora. Non lui principalmente da solo ma c'era lui. C'era ancora lui. È entrato in tutte e due le partite. Ci siamo arrivati. E quindi va bene così. Arriverà il video. Ve lo dico subito. Anche del come sono arrivato in divisione 1. Una spiegazione del modulo, dei giocatori, di tutte le abilità che ho aggiunto ai giocatori. Di come gioco, degli schemi, delle istruzioni individuali. Tutte le cose che mi chiedete di solito sotto i video. Ve le metterò tutte in un video solo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che ogni 100 iscritti c'è il ritorno del team Pipponi. Quindi a 3200 iscritti ci sarà il prossimo episodio. Iscrivetevi tutti. E noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao a tutti.